Pronto? Ciao, ciao Giancarlo, come stai? Buonasera Buonasera No, no, anzi, è il pomeriggio qua Ah, perché da dove chiamabile? Ah, è dalla Florida ai Stati Uniti Oh, perfetto, ho capito Quindi siamo diventate internazionali stasera con l'America, dai No, grazie a voi Sì, il titolo è Quel viaggio Quel viaggio Un tempo di vita indescrivibile Uscire dall'oscurità liberando la parte essenziale del mio io vivente L'anima fin troppo soppressa nel tempo Poi, tutto fu luce Aria, speranza Una motivazione per vivere Una svolta alla mia vita Nella naturale libertà di spirito Tutto nelle mie mani Proprio come i gabbiani in volo Sorvolavo in alto e in largo L'omentità di mari Libera di volare Libera di volare Scrutare Percepire la bellezza e il senso del creato E come gli occhi di un'artista Scoprivo le forme perfette I colori vivi I paesaggi più belli Dipingendoli Sulla tela della mia vita Perché Amarsi Sciogliere i nudi Affondare nel pozzo dell'amore Senza negare Sono emozioni Sensazioni Ricordi Che non sbiadiranno mai Immortale è La tela dell'anima Ora Sappiamo Che l'amore da solo non basta Il destino Non ha cuore Tutto e tutti Lo possono deviare Anche Se consapevoli Che l'amore vero Entra una sola volta nella vita Ci siamo persi Mai Ne concepirò la ragione Ma Ne arrivo ai momenti Nei miei silenzi Nella mia solitudine Quando nel ricordo Asciugo quella lacrima Il tuo viso è qui sai Anche In tua assenza E a tua insaputa Il mio pensiero Riesce a raggiungerti E se qui con me Solo Avrei voluto a quel tuo fine Sentirmi dire grazie Per quanto io ti ho amato E non decepirlo In un silente A Dio Meravigliosa Grazie Mamma mia Ma questa sera La poesia di una stenza Che diventa presenza Nel pensieri dell'amata Che pensa l'amato Bellissima Grazie Bellissima Bellissima poesia Che ci Ci fa Trasportare Veramente Lo risento così Giancarlo Mi dicono che Non si sente la tua voce Adesso si Avevo forse Dimenticato di attivarla Adesso Scusatemi Perché io gioco Attivare Disattivare Attivare E certe volte Mi capita Di fare il contrario Ecco Adesso Funziona Ok Perfetto Va bene Adele Mille grazie Aspettiamo di organizzare Anche una serata Speciale Dedicata ai poeti D'america Questo è In previsione Anche Ne ho parlato Anche con Angela Vediamo se possiamo Anche invitarla Angela Angela Presentatrice Futura presentatrice Della sessione Inglese Va bene Adele Ti invitiamo a chiudere Grazie E Buon pomeriggio Grazie Buon pomeriggio Grazie Buon pomeriggio A te Grazie